Siamo partiti nel 2019 che i furti in abitazione in quella zona erano oltre 150-169, credo di ricordare. Alla fine del 2021, ancora in epoca Covid, erano più che dimizzati, 84. Oggi c'è rispetto alla fine del 2021 una dievissima ripresa di quei numeri che erano assolutamente crollati, ma siamo ampiamente al di sotto del trend del 2019. E' l'analisi dell'andamento dei reati predatori, a partire dal più diffuso, quello dei furti in casa, che il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha condiviso con alcuni degli amministratori locali dei 16 comuni del bacino d'area sud-ovest della provincia di Potenza, tra cui il sindaco di Lauria, il vice sindaco di Castelluccio Inferiore e il commissario straordinario del comune di Lago Negro. Presente anche il presidente della provincia di Potenza e i vertici provinciali delle forze di polizia. Campanaro ha analizzato l'andamento della prevenzione sul territorio. Secondo il prefetto, il ricorso agli strumenti della sicurezza urbana resta l'obiettivo prioritario dei sindaci, ma anche gli stessi cittadini possono e devono fare la loro parte. Lo Stato c'è e i controlli ci sono, senz'altro saranno intensificati, ma è importante affiancare l'attività delle forze di polizia anche quella degli amministratori locali, che sono i responsabili anche della gestione delle politiche della sicurezza urbana e le comunità stesse dei cittadini, attraverso per esempio l'esperimento che abbiamo appena formalizzato, qui si potenza, del controllo di vicinato.